Nella prima mattinata di ieri i carabinieri della stazione di Mammola hanno tratto in arresto Vincenzo Vinci, 75enne del posto già noto alle forze dell'ordine, per tentato omicidio e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. In particolare l'uomo avrebbe accoltellato un 44enne anche lì di Mammola per futili motivi legati a questioni di vicinato. La vittima, ferita all'addome, è stata immediatamente trasportata presso l'ospedale civile di Locri per le cure del caso. I carabinieri della locale stazione, prontamente intervenuti, hanno ricostruito in breve tempo quanto accaduto ed anche grazie a quanto riferito dai presenti all'aggressione hanno identificato l'accoltellatore ed intrapreso le sue ricerche, rintracciandolo poco dopo e recuperando l'arma utilizzata per l'insano gesto. Si tratterebbe di un coltello della lunghezza di 21 cm che è stato sottoposto a sequestro. Alla base dell'arterco ci sarebbe una diatriba per alcune infiltrazioni di umidità da un muro limitante le proprietà dei due, una faccenda che non si sarebbe mai risolta e che si trascinerebbe da diversi anni. Nessuno però poteva credere che per questo sarebbero arrivati a quanto successo ieri. Dopo le formalità di rito, Vincenzo Vinci è stato tradotto presso la casa circondariale di Locri a disposizione dell'autorità giudiziaria inquirente. Deve rispondere di tentato omicidio, porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.